JKJ, an Italian plastic fabrication company and the National Associations for Visually Impaired People have developed a tactile path system with integrated communication tags. The path helps persons with visual impairments to navigate safely by giving voice directions to the users' mobile phone about the path and surrounding spaces via Bluetooth Smart Stick. Io sono molto felice e orgoglioso di ricevere questo premio dalla splendida organizzazione di Zero Project perché questo aiuta a realizzare un sogno che ho da 40 anni, un sogno che è quello di rendere autonomi e indipendenti tutte le persone con disabilità fisiche o sensoriali e Zero Project mi sta aiutando a realizzarlo. Grazie a tutti.